Questi sono problemi che gli storici sanno sono sempre aperti e sono qualche cosa che diciamo così fa parte del nostro bagaglio culturale, del nostro bagaglio intellettuale. Non possiamo far finta che non sia vero, spesso lo si fa finta che non sia vero. Conosco tanti libri su Marx o su Hegel o su chi volete voi, dove questa cosa viene in qualche modo trascurata e si presenta nella ferma convinzione di essere nella verità il vero Marx, è un Marx, cioè che lui lo sappia, ma in genere molti autori si dimenticano di quello che ho detto e dicono ho scritto il libro, questo è Hegel, non stiamo più a ridistutere, questo è Aristotele, questo è Platone. E' una cosa, una specie di vizio, una specie di atteggiamento un po' infantile, ma che è presente anche in persone, diciamo, molto anziane. Ora, sapere questo è una cosa. E rendersi conto però di quanto c'è di davvero mitologico, di inventato, di sfruttato di una figura storica. Beh, se prendete questi personaggi che sono diventati simboli, oltre che, o parlano di quelli, Marx e un altro, beh, le cose che vengono attribuite a loro in genere hanno, diciamo così, queste attribuzioni dipendono dall'uso, diciamo pure la parola, l'uso politico, politico in un senso che magari ha a che fare con la religione, per il rapporto con la religione, che se ne intende fare. E' successo il caso Galilei, che è un altro caso clamoroso. Beh, ci sono come delle, non so se consapevoli o inconsapevoli, questo poi mi interessa poco, ci sono delle vere e proprie forzature. Si forza il testo per presentare quell'autore che avrebbe detto, che avrebbe detto quelle cose, che non avrebbe detto nulla che possa voltare le nostre convinzioni più profonde, nulla che possa risultarsi inaccettabili, perché questi rischiano sempre in queste, quando diventano un gesto di polemiche, diventare degli eroi del pensiero, pur eroi del pensiero. E allora una cosa discutibile per noi, si fa finta che non ci sia, che non sia mai stata detta. In questo libro ci sono vari esempi di questo, ma è bene anche questo, che ci sia un po' di elemento, come si potrebbe dire, di sacratorio nel lavoro degli storici, ci deve essere. Tra le razze bianche e nera c'è una differenza fisica, che credo impedirà per sempre alle due razze di vivere insieme nell'eguaglianza sociale e politica, nella misura in cui esse non possono vivere in questo modo. Fintanto che restano insieme, ve ne deve essere una superiore e una inferiore, e io come chiunque altro sono favorevole che si assegni un posto superiore alla razza bianca. Questo non è un ruolo nazista, come ve ne deve dire, ma è un discorso del 18 settembre, quello c'è qua sotto, in tavola, mollino, con un'altra. Cos'è questo? Non lo so. Comunque c'è un testo come questo, che ci dice che le cose sono sempre un po' più complicate di come crediamo, e che non si può assumere delle condizioni che ne hanno di principio possibilità di questo genere. E ce ne sono nel libro, ce ne sono molte, è inutile adesso elencarle, ma è significativo. Cioè che c'è sempre come la parola che mi piace, la metafora che mi piace, perché sono impadronito, ma dicendo che è di un altro, ma poi non è di un altro, è di Descartes addirittura, quindi si può saccheggiare in classico. Dice Il passato è un paese straniero. E' la metafora che usò a Descartes, il primo che dice che chi si occupa dell'istoria è come uno che viaggia in paesi stranieri, al fine conosce quelli, ma il suo paese non lo conosce più. Quindi non conosce più la cosa importante, la vita nella quale... Ecco, voglio dire, questo è qualcosa appunto che... Il passato è pieno di imprevisti, ecco, si trovano tante di queste cose, come questa che vi ho detto di Lincoln, che è molto impressionante, perché Lincoln è il nome del liberatore, è sempre impossibile che l'abbia chiesto. Quindi la storia è piena di cose abbastanza contraddittorie, difficili, che stanno insieme a fatica, e non si può piegarla ai propri fini. Se si piega ai propri fini, si trova nel caso di Benissimo Pardidaro, si può trovare, non si trova sempre, ma in qualche modo si trova uno studioso come l'Antonio Lavegata che va a fare le bucce, va a vedere quante sono le forzature, se ci sono forzature, e se si può continuare, si possono continuare a dire delle cose come se fossero le cose pacifiche, vere, ovvie, comuni, chi non le crede non è una persona normale, no, non è così. C'è una... Una volta lui fece una assistente a delle conversazioni nella radio, delle conversazioni in una radio italiana, non faccio nessun riferimento, no, c'era un circo su Darwin, e lui, che è uno che insomma prende appunti, scrisse tutto quello, tutti gli sfondoni già, perché erano quasi proprio sfondoni, erano errori, veri, non sono cose indiscutibili, ecco, ma se uno dice lui non ha mai detto questo, non l'ha detto, lui ha detto questo, no, non l'ha detto, quindi lì, capito a dire, non c'è più da discutere di vita, e fece quel carico, che era un momento davvero impressionante, che fu pubblicato, insomma, con regola di vista, di vista di filosofia, cioè l'ha affrontato da Nicola Pagnano, perché c'era Bobbio, che è ancora in vita, che ha fatto il numero 100 poco tempo fa. Quindi, benvenuti in libri come questi, perché aiutano a ridiscutere i temi, a mostrare quanto sia complicato, contorto e difficile il cammino della storia, e quanti ci siano, e come sia ingiusto pretendere di costruire delle storie ad hoc, cioè ognuno si può costruire la sua autobiografia bellissima, come avvito lo sapeva, e sua autobiografia è splendida, ma lo sapeva, che stava costruendo un'autogiustificazione, una presentazione di sé, ognuno di noi può raccontare la sua vita, con questo stile, giustificando tutto quello che ha fatto, e trovando una ragione che giustifica tutto quello che ha fatto. Però se la stile è un altro, e gli storici sono quell'altro, la cosa cambia, si vedono cose che non si vedevano. Ecco, la storia, almeno come racconti a noi, serve a principalmente, o a questo, a riuscire a vedere cose che finora non si sono viste, sennò perché racconteremo sempre la storia, perché continueremo a occuparsi di Descartes, perché ognuno di quelli, se no, può sperare, a volte ha torto, ma di vedere degli aspetti nuovi, e questi nei classici ci sono, perché ci sono, quelli che noi chiamiamo geni, geni, non i geni della genetica, i geni di geni, come Neutron, come Descartes, come Einstein, quello che volete voi, cioè quelli che hanno visto cose nuove, allora è sempre difficile far capire cosa mi ha visto, e con questo ringrazio Antonello per questo bellissimo libro che serve molto in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, relativamente al modo di giudicare e di valutare la vita. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.